Buonasera a tutti e benvenuti alla 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero. Siamo qui come secondo anno con i salta che ti passa con questi splendidi bambini di Norcia che vanno dai 4 ai 12 anni. Io gli farei un grande applauso. Allora, non ve la faccio troppo lunga perché è bello vedere di ballare. Abbiamo riproposto tre balli. Il primo sarà il ballo della Ciambella, che è un ballo popolare che si faceva alla fine delle feste paesane e che loro sono molto contenti di farlo perché è una cosa dei loro nonni, delle tradizioni che loro tengono vive. Il secondo ballo sarà il ballo delle Fate, che è un ballo che noi ci siamo ispirati alle Fate della Sibilla perché le Sibille hanno vissuto nei nostri monti e noi ne siamo orgogliosi. Terzo ballo, il Saltarello perché è proprio il ballo popolare di Norcia e anche dell'Appennino Centro e Marchigiano e l'abbiamo rivisitato un po' anche perché loro sono vicini però faranno un gran figurone. Un applauso e salta che ti passa! Allora, senza perdere tempo. Ci disponiamo per il ballo della Ciambella. Vai le coppie! Ballo della Ciambella! Ballo della Ciambella! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.